è lasciato da pochissimo lo spogliatoio del verona immagino insomma quante i scherzi assandrà perché insomma tu lo so che sei uno soggetto a prendere tra virgolette in giro i tuoi compagni insomma sei uno che ama divertirsi però quando c'è da fare il serio sempre in prima linea insomma che il tuo ex compagno del verona più simpatico quello con cui è stretto maggiori rapporti diciamo con tutti io ho legato ovunque vado io sempre faccio voler bene dai miei compagni o nel bene e male c'è sempre questa simpatia tra di tra di noi no e poi specialmente anche su di me vabbè più più simpatico e sono tutti simpatici però secondo me con quello che più legato di più è stato paolino no paolo dietro di noi è stato paolino che con cui più legato perché anche stato mio autista in senso che ogni volta da abitavamo a di senzano lì mi portava spesso volentieri da dal campo da di senzano a sandra mi portava spesso volentieri mi è stato mio autista personale io li guidavo io ero lì seduto steso mi riposava per fare lamenti forse è lui perché è un ragazzo simpatico un ragazzo molto schietto poi abbiamo legato proprio di più con lui sono stati tanti scherzi sei messi meravigliosi abbiamo avuto tante belle belle cose la vittoria con il palermo tante cose tante veramente belle cose che io non dimenticherò mai anzi mi ritengo dentro di me so che veramente ha lasciato un gruppo meraviglioso persone eccezionali voglio salutare tutti i magazzinieri fisioterapisti dottori massaggiatore perché sono stati fondamentali per me tutti quanti voglio salutare ripeto secondo me il più più secondo me quello che prendiamo più in giro è paolino ma tutti quanti lo prendiamo per giro perché per tanti motivi lui lo sa io non li posso svelare qui davanti alla telecamera però lui lo sa perché noi lo scherziamo e facciamo più battute su di lui perché è un po' così è un ragazzo un po' particolare e strano anche ascolta vale dai chiudiamo ti lascio il testimone direi che ci sta è doveroso un saluto da parte tua e amici di alas live vorrei salutare tutti gli amici di alas live vi saluto e vi faccio veramente in bocca al lupo per per tutto quest'annata e saluto a tutti i tifosi della last life e speriamo di rivederci futuramente a tutti i tifosi di alas live vi saluto a tutti i tifosi della